105 video, due anni insieme al nostro carrile Alessio, vieni qua, fatti vedere per un attimo da tutti i presenti, fai vedere la tua faccia, il nostro bravissimo e bellissimo Alessio, sopravvissuto all'insopravvivibile, bravissimo, grazie, perché sennò non so con chi farai i video. E di che ti scherzo, bravo. 105 video, adesso ci prendiamo una piccola pausa, ma non è vero, in realtà torniamo la prossima settimana del 2020, però pausa, basta con le terapie brevi, ridiamo un po' e grazie per essere stati qui. 105. Da buon terapeuta breve non è raro che io mi concentri prima sul sintomo o l'aspetto problematico nucleatico. Da buon terapeuta breve non è r... Da buon terapeuta breve non è raro che io mi concentri per... Concentri. Da buon terapeuta breve non è raro che io mi concentri per primo sull'aspetto sintematico... Uff, respira. Crepammo non si può sentire, crepammo. Noi crepammo... Essendo un muro si è crepato. Si è crepato. Si sente? Aspettiamo che basti... Come si chiama, no? L'arrosticino, come si chiama? L'arrodino. L'arrodino, l'arrosticino. Perché ho fame, perché ho fame. È una costruzione come tante altre che nella mia epofisi deve fare qualcosa. Psycho-sense. È un po' inquietante. Un po' da film horror. Un po' da film horror. Facciamolo. Facciamolo, il senso del... Il psico-sense. E gli fa l'analisi. Ora ti analizzo, che è una cosa un po' morbida, effettivamente. È in funto, è in funto, è in punte. È soltanto una costruzione, come tante an... Antre. Ma come tante ante. È una costruzione come tante ante. Per questo è una costruzione. Per questo è una costruzione. Il concetto delle nuove logiche, per me, è quello di ridurre la comp... Il concetto delle nuove logiche, per me, è quello di ridurre la complessità. Fini? Fini, basta. C'è mezzo secondo d'anno. Arrivederci. Sì, era finito, finirà così. Poi ci mancano solo otto video. Perché quest'anno, quest'anno, a 53 mercoledì. 53 martedì. Quando si vede il risultato di un ordaglia, spesso c'è l'idea di un ammazzato marino. Grazie.